Ciao a tutti, sono Feder, ma ormai mi conoscete. Sto testando la nuova applicazione Capture per provare a caricare direttamente ogni giorno se riusciamo, se ci divertiamo dei video su YouTube. Oggi sono qui per un corso di un visorio e sono con la Joe. Stiamo lavorando per noi e per voi e ragazzi ci si vede venerdì a Royale Unique. Pace! Grazie!